Amici di Guru Fans e Football Is My Life, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è video di mercato dei colpi dell'ultima settimana a 10 giorni. Pogba è vicinissimo a vestire la maglia del Manchester United per 110 milioni di euro che andranno alla Juve, il colpo più caro della storia del calcio. E alla Juve andrà uno tra Witzel, che sembra il favorito, Matic o Matuidi. Tra l'altro, visto l'infortunio di Marchisio che si è allungato, cioè i tempi sono più lunghi, non è escluso che possano arrivare anche due di questi tre, oppure possa inserirsi anche un altro nome che al momento non è stato fatto. Parlando dell'Inter, poi, finalmente Candreva è un giocatore nero-azzurro, alla Lazio andranno 25 milioni di euro. Poi, sempre all'Inter, si parla molto di Gabigol, che sembra vicinissimo a vestire la maglia nero-azzurra. Questo però, secondo me, dipenderà dalla cessione o meno di Cardi, il cui prezzo è stato fissato a 70 milioni. Il Napoli proverà a fare un'altra offerta per lui. Napoli che intanto ha preso il sostituto di Higuain, cioè Milik, un attaccante giovane ex Ajax, che però adesso ha bisogno anche di un'altra prima punta, perché dalle amichevoli che ho intravisto, Gabbiadini non è adatto a fare la prima punta, cioè è una seconda punta che viene adattato a fare la prima punta e rende poco niente. Poi torna in Italia anche Immobile, Immobile che si accasa a Roma, Spondalazio, che cercherà il riscatto dopo due stagioni non proprio brillantissime, prima al Borussia Dortmund e poi al Siviglia. E poi rimanendo all'estero, invece c'è stato uno scambio tra l'Atletico Madrid e il Siviglia. Vietto passa al Siviglia e Gamero passa all'Atletico Madrid. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il riassunto dei colpi più importanti dell'ultima settimana. Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale, a iscrivervi alla pagina Facebook e a seguirmi anche su GuruFans. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!